E' lotta allo spaccio davanti alle scuole. Tra giovani sono stati fermati dai carabinieri di Ponte Nure proprio nel corso di un servizio messo in atto per prevenire e contrastare lo scambio di sostanze stupefacenti in prossimità degli istituti scolastici della città. I due, un 19enne di origini napoletane e due 23enni nordafricani, tutti residenti in provincia e pregiudicati, sono stati sorpresi mentre erano all'interno dei giardini pubblici di fronte a una scuola di Piacenza in compagnia di altri alunni da poco usciti dopo aver terminato le elezioni. I carabinieri, notando alcuni movimenti sospetti, li hanno bloccati i perquisiti. Due di loro sono stati trovati in possesso di 25 grammi di marihuana, in particolare il più giovane aveva suddiviso la sostanza stupefacente in quattro dosi e per questo è stato denunciato per detenzione ai fili di spaccio di droga, mentre secondo è stato segnalato quale assuntura alla prefettura e al tribunale per inosservanza alla normativa sulla legge sugli stranieri, in quanto colpito da decreto di espulsione emesso nell'aprile del 2017 dalla questura di Bergamo. I carabinieri fanno sapere che i controlli proseguiranno incessantemente, ci sarà tolleranza zero verso chi spaccia i giovani studenti.